La questione delle nomine, molto importante. Oggi sulle agenzie c'è un corollario di voci, di riunioni, non si sa nemmeno se dovrà esserci una riunione straordinaria a Bruxelles. Ma io mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano. Per esempio, mi limito a tre, Balchenende, Milliband e Varopui. Ma è mai possibile che nessuno abbia osservato che tutte e tre sono frequentatori delle riunioni, vuoi del Bilderberg, vuoi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni. E si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro Paese e le forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei popoli.